bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video su ea sport fc24 intanto facciamo l'accesso e sblocchiamo subito carvajal 95 non sarà chissà quanto utile peccato non è neanche scambiabile almeno se fosse scambiabile sarebbe buono ci sarà il bundle giornaliero che vedremo 9903 9905 3.000 li spendiamo le 3.000 gemme vediamo questo bundle giornaliero pallone d'oro 100.000 credit due giocatori di seconda fascia come già sapevamo e intanto vediamo il giocatore di prima fascia che c'è francia a di nuovo l'ioris sicuro sono due giorni consecutivi che mi da l'ioris ragazzi vorrei sapere se anche a voi capita questo scrivetemelo sotto nei commenti andiamo avanti andiamo a completare tutte le ricompense che ci sono no club no club un attimo il club dobbiamo sistemarci un po la squadra dobbiamo sistemarci un po la squadra pallone d'oro andiamo a fare vediamo un attimo le ricompense come come siamo messi ah già è vero siamo messi abbastanza malino possiamo spendere il pacchetto standard principale facciamo questa veloce veloce ci togliamo davanti già la scatola esplosiva ti pareva che sbagliavo il primo primo tiro bravissimi secondo tiro però non sbaglio è terzo tiro è amara quarto tiro non posso più sbagliare ultimo tiro per fortuna me lo da giù che è il più semplice bene vediamo premi pallone d'oro ritiriamo il premio pallone d'oro mille crediti che non ne facciamo nulla allora andiamo a sistemarci la squadra calcio d'inizio kick off andiamo a sistemarci la squadra prima andiamo a sistemarci la squadra prima andiamo una cosa qui premi tutorial ritira germania e del bayer leverkusen insieme mi da foden mi da arnold mi da son bellingham wow bella bella pescata bella pescata crone che icona division rival prossimo passo crone che icona crone che icona crone che icona va vai gangoldo insigne ecco qui a giro no lo sbaglio eh Sergio ramos insigne non giocheranno insieme nel napoli a gennaio ok pacchetto cronache icona bloccati altri 100 bene 93 99 ci sono tanti giocatori qui da ricercare cacca c'è da fare un po' eh cacca c'è da fare un bel po' di partite per sbloccare cacca e per sbloccare anche tutti gli altri giocatori cronaca per chi appena scaricato il gioco ragazzi sono molto molto utili questi giocatori intanto torniamo indietro e andiamo a sistemarci la squadra perché ci ho messo dentro i tre giocatori presi dall'evento precedente e non è la mia squadra top quindi andiamo a fare compilazione automatica eccola qua la mia squadra top con robert sanchez in porta sono da sostituire sempre quel difensore centrale musiala 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 104 in panchina posso fare non posso fare altrimenti questo comunque sono soddisfatto abbastanza della squadra che ci sta vediamo il pastello ci sono novità c'è il rivaldo c'è il rivaldo rivaldo 105 lv quindi supplementari andiamo a sbloccare anche questo poi poi prendiamo anche i pacchettini gratuiti ragazzi giustamente giustamente è anche scambiabile buono dovrebbe esserci il pacchettino gratuito qui nel negozio migliori eventi migliori eventi ne ho due uno a bundele gratuito fase campionato UCL e l'altro è del pallone d'oro perfetto bene ragazzi per il momento chiudiamo questo video che finisce qua spero che vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciatemi un like per sostenere il mio canale per altri contenuti simili noi ci vediamo nel prossimo video e chiudiamo con questo pacchetto oggetti che ci da un po' di oggetti bene ragazzi bella a tutti